James Fox presenta... JF Inside, la rubrica che ci fa conoscere la mitica squadra di James Fox. Cosa fa un agente, come si entra nella squadra, quali sono le attività che il superamico della sicurezza organizza per noi? Non è più un segreto con JF Inside. Oggi conosciamo... Agente CB! Agente CB, presentati! Ciao, sono l'agente Alessandra. Il mio soprannome? Agente CB. Perché? Caramella buonissima! I tre aggettivi che mi distinguono. Simpatica, casinara e eterna bambina. Da dove vengo? Dal quartier generale. CB, cosa fa un agente della squadra JFox? Beh, fa un sacco di cose. Va nelle scuole a giocare con i ragazzi, per imparare come cavarsela nelle situazioni più difficili. Con James e la squadra, pensa alle missioni RIM. E tu, ti occupi anche del RIM? Certo, mi occupo del RIM. Rimbalza il malintenzionato, il concorso per diventare agenti. Ogni anno James e la sua squadra lanciano delle missioni che i ragazzi possono fare con amici, parenti, familiari, ma anche con gli agenti. Insomma, tutti insieme! Raccontaci qualcosa delle missioni. Le missioni sono di tanti tipi. James ti può chiedere di scattare una foto, di girare un video, di cantare una canzone o di ballare. Ad esempio, l'anno scorso, la missione di ballo, cioè la JF Coreo, è stata fatta da tantissimi ragazzi. Siccome eravamo tanti tanti, James ha chiesto a noi agenti di dar loro una mano per fare le prove. E indovinate chi è andata? Io! Ho ballato insieme ai ragazzi di Norma, Rocca Gorga, Aprilia, che sono stati bravissimi. Hanno coinvolto talmente tanti amici che alla fine a ballare eravamo più di cento. E quest'anno ci sono nuove missioni del RIM per diventare agenti? Sì! Se volete diventare agenti, siete fortunati! James e la sua squadra hanno lanciato tante nuove missioni per il concorso RIM 2014. Scopriamolo insieme sul sito www.jamesfox.it o sulla pagina Facebook Squadra Speciale JFox, dove gli agenti speciali vi aspettano per darvi una mano. Agente CB, cos'è il contesto della sicurezza? Il contesto della sicurezza è un'olimpiado in cui si sfidano tantissimi ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie. Si inizia a giocare in classe con le insegnanti e con gli agenti, rispondendo ai quiz della sicurezza. I migliori si qualificano per la finale e chi vince la finale diventa campione! Qual è il tuo ricordo più bello delle finali? Delle finali ha un sacco di ricordi, ma il più bello è quello della finale regionale 2013. Ho provato un'emozione bellissima, facendo il portabandiera mi sono sentita parte di un gruppo super. I ragazzi non applaudivano me, ma James e tutta la squadra. Poi quei ragazzi hanno giocato tutti insieme per diventare i campioni della sicurezza 2013. Chi è James Fox? Chi è James Fox?